Questa cartina mostra la situazione della diffusione delle religioni alla fine del 1500 in Europa. Se consideri che solo i paesi colorati in giallo sono paesi in cui è rimasta salda la dottrina cattolica ti renderai conto che la chiesa a quell'epoca non aveva più la supremazia religiosa in Europa. Questa situazione però ebbe per la chiesa di Roma delle conseguenze positive perché la costrinse a riflettere e a rimettere mano a tutti quegli aspetti che Lutero aveva fortemente criticato e che avevano causato proprio questo disastro dal punto di vista religioso. La chiesa cioè capì finalmente, seriamente, che era il caso di rivedere le proprie posizioni e i propri comportamenti. Per fare questo venne convocato un concilio ecumenico. Cosa significa concilio ecumenico? Il concilio è un'assemblea a cui partecipano tutti i vescovi e viene convocato tutte le volte che è necessario discutere di qualcosa di molto importante che riguarda la fede. In questo caso venne convocato a Trento nel 1545 dal papa di allora che era Paolo III. In questo dipinto il pittore ha immaginato che il papa abbia avuto una visione, la visione proprio del concilio di Trento e questa figura con delle sembianze femminili che mostra la visione di quello che sarà al papa è proprio la fede. Un altro personaggio che volle fortemente la convocazione del concilio fu Carlo V, l'imperatore di allora. Carlo V sperava che con un concilio si potessero ristabilire le situazioni di pace nel suo impero che era dilaniato dalle guerre tra i principi cattolici e i principi luterani. Guardiamo attentamente allora chi partecipò a questo concilio. Allora qui ci sono gli ambasciatori del papa, qui c'è una rappresentanza di tutti i cardinali. Qui davanti seduti ci sono i rappresentanti degli ordini religiosi, ordini religiosi di cui parleremo poi più avanti. Qua invece ci sono gli ambasciatori delle più importanti nazioni europee. Qui troviamo l'ambasciatore di Carlo V e qui invece il segretario del concilio. Ovviamente poi qua ci sono tutti i vescovi che partecipano al concilio. Oltre ai vescovi cattolici a questo concilio furono invitati anche i rappresentanti della religione luterana. in realtà il concilio non servì a mettere pace o meglio ancora a riunificare la chiesa cristiana. Ormai la frattura tra i cattolici e i protestanti era troppo profonda. Questo malgrado il concilio fosse durato per tanto tempo, durò 18 anni e fecero in tempo a succedersi ben tre papi. Il concilio fu anche spostato da Trento a Bologna perché nel frattempo c'era stata un'epidemia di peste. Tutta questa fatica però non servì allo scopo che si era prefissato. È anche vero che sarebbe un errore pensare però che non servì a nulla perché in realtà come ti ho anticipato prima ci furono anche delle conseguenze positive. Allora intanto la chiesa ribadì alcune verità di fede e cioè ribadì la validità dei dogmi. Quindi quando il papa stabiliva un dogma di fede era vero, ribadì che tutti i sacramenti erano validi e non solo due come aveva detto Lutero, ribadì la superiorità del papa e l'assoluta necessità della presenza dei sacerdoti. Lutero sosteneva che ogni fedele era sacerdote di se stesso e quindi poteva rapportarsi direttamente con Dio. Invece il concilio di Trento sottolinea con forza la necessità che sia la chiesa a fare da tramite tra il fedele e Dio. E poi soprattutto ci fu una vera e propria riforma morale del clero, cioè si ribadirono o si stabilirono delle regole per fare in modo che il comportamento dei rappresentanti della chiesa fosse assolutamente irreprensibile e fosse di esempio per i fedeli. Tra le molte direttive che la chiesa in questo campo aveva emanato ci fu ad esempio una grande chiarezza sui doveri dei vescovi. Da adesso i vescovi dovevano assolutamente risiedere nella propria diocesi, mentre prima potevano essere vescovi di una città e vivere da tutt'altra parte, dovevano visitare tutte le parrocchie della diocesi per incontrare i parroci, per controllare che tutto funzionasse bene, per ascoltare le esigenze della popolazione. si ribadì, si stabilì oimè veramente, che si poteva diventare vescovo solo per sincera vocazione religiosa e poi si capì l'importanza della preparazione del vescovo, cioè e anche del sacerdote. chi diventava sacerdote doveva essere preparato, doveva diventare una persona capace e competente e quindi si crearono dei seminari, cioè in pratica delle scuole all'interno delle quali si studiava per diventare sacerdote. Questo nuovo fervore religioso, queste novità, diedero vita a numerosi ordini, oltre a quelli che già c'erano. Ti ricorderai ad esempio Domenicani e Francescani. In questo periodo ne nascono molti altri, Barnabiti, Carmelitani eccetera eccetera. Il più importante di tutti però fu la creazione dell'ordine dei Gesuiti ad opera di Ignazio di Loyola. Ignazio era un cavaliere, un soldato spagnolo che durante una convalescenza, perché era stato ferito in una battaglia, si avvicinò alla fede e si convertì. Si ritirò a vivere per parecchio tempo come un eremita e fondò successivamente un ordine religioso, la Compagnia di Gesù. I suoi membri poi sono conosciuti col nome di Gesuiti, però il nome è Compagnia di Gesù. Lui era stato un soldato, anche il nome Compagnia ricorda un po' della compagnia militare e il fatto che fosse stato un soldato ebbe conseguenze sullo stile, sull'organizzazione di questo ordine, che fu molto rigido, quasi militaresco. Uno degli obiettivi più importanti che i Gesuiti si posero fu lo studio, lo studio e la diffusione della dottrina cattolica. In sostanza i Gesuiti partivano da questo ragionamento. In un'epoca in cui la dottrina cattolica viene così attaccata dagli avversari, come posso io difenderla se non la conosco perfettamente? Ecco perché i Gesuiti fondarono scuole e collegi in tutto il mondo. In questa cartina si vede la diffusione dei collegi dei Gesuiti. Noterai subito, a colpo d'occhio, che questi numerosi collegi coprono la zona cattolica dell'Europa. Sono tantissimi ed erano delle scuole molto rigide, molto severe. Per poter diventare Gesuita si doveva studiare tanti anni, 12 anni e il Gesuita poi aveva il compito di diffondere e difendere la dottrina cattolica in tutto il mondo.